Un altro caso di tubercolosi sarebbe stato registrato a Trieste, ad esserne affetto un profugo pakistano. La malattia sarebbe stata scoperta durante un controllo diabetologico, controllo che sottolinea il coordinatore provinciale di Fratelli d'Italia Claudio Giacomelli riguarda una patologia non infettiva e in seguito alla scoperta il personale coinvolto ha dovuto subire tutte le procedure di protezione medica. Giacomelli che in una nota sottolinea la professionalità dei sanitari evidenzia una palese falla nel sistema, già che a suo dire la patologia tubercolare non era stata rilevata precedentemente quando cioè il profugo pakistano era entrato nel sistema di accoglienza. Giacomelli ora si chiede da quanto tempo la persona malata si trovasse a Trieste senza che la TBC fosse stata rilevata e con quante persone si è entrata in contatto e pretende una volta per tutte chiarezza sulle misure di rilevazione e profilassi previste per i richiedenti asilo. Se non c'è sicurezza, conclude Giacomelli, non si parli di accoglienza.